Grazie all'assessore ha lanciato tantissimi stimoli, penso che il dottor Lampis ne raccoglierà diversi, gli cedo la parola ringraziandolo ancora per la presenza qui, il suo è un ruolo cruciale all'interno del Ministero e all'interno di questo Paese e quindi siamo veramente molto contenti che sia qui con noi. Antonio Lampis, direttore generale dei musei del Ministero per i beni e le attività culturali. Grazie, grazie dell'invito e per me è un piacere essere qui a Bologna e trovare qui Laura Moro che da poco è stata collega al Ministero, io stesso sono di giovane provenienza e di lunga invece credo di essere il dirigente del settore cultura più vecchio di tutta Italia. Quindi vengo dall'esperienza delle regioni, vent'anni da direttore generale a Bolzano, una terra che per riprendere le parole del nostro assessore ha saputo lavorare per 50 anni in anteprima su tanti Paesi d'Europa, su quello che appunto l'assessore ha indicato come la giusta via, il governo delle differenze, il governo della complessità. A Bolzano abbiamo imparato questo fin dal dopoguerra, governare la differenza è un lavoro pesante ma è esattamente quello che va fatto. Sono aspetti che allenano la politica, allenano l'amministrazione a ottenere risultati di livello molto più alto di quelli che si fanno con la banalizzazione, con la semplificazione delle cose che di per sé invece essendo diverse, come dice anche la Corte Costituzionale, vanno trattate in forma diversa. Da quello che è emerso in questa esperienza, io vengo da studi di diritto regionale, di rapporti Stato-Regioni, emerge anche una linea che, guarda caso, viene realizzata tra i primi esempi in Italia dal Sistema Nazionale dei Musei. E cioè la linea che ci siamo detti per tanto tempo con le regioni e con lo Stato che non tutto quello che deve essere gestito al centro deve essere statale. E questa è una grande differenza, va esattamente nella linea di quello che diceva l'assessore e cioè di trovare delle forme di coordinamento e di scambio di esperienze costanti. Non è detto che una competenza delle regioni non possa essere vista e rivista e discussa a Roma e non è detto che per forza, per le cose che si discutono a Roma, devono essere statali per definizione. Il sistema museale è della nazione, è il sistema museale nazionale. Lo abbiamo creato in anni di studio con ICOM, con le regioni, con i comuni e con le università. E' un patrimonio della nazione, viene gestito a Roma, viene gestito dal Ministero, ma come potrebbe avvenire anche per altri ambiti di discussa e contesa competenza, è un serbatoio, un luogo di incontro e di definizione di passi strategici che è appunto nazionale. E questo aiuterà anche per rassicurare le prospettive correttamente indicate da chi ha parlato prima di me anche sulle linee di sviluppo strategico, sul tema del digitale, sul tema del racconto dei musei, che è quello che più attende l'impegno di chiunque, dei comuni, delle regioni, dello Stato e soprattutto dei direttori di musei. I musei ancora molto spesso sono meravigliosi, ci fanno aprire la bocca, ma realizzare quelle effettive esperienze di conoscenza che chiede la riforma dei musei è ancora in molti casi una chimera e si esce dai musei senza avere in più nel cervello nulla nel patrimonio cognitivo o poco. E questa è la grande sfida e questi avanzatissimi livelli minimi di qualità, se è vero che ci ricordano gli aspetti di sicurezza, ci ricordano gli aspetti di accessibilità, pongono un peso molto forte nel tema del raggiungimento di effettive esperienze di conoscenza. Uscire da un museo con qualcosa in testa in più rispetto a quando si è entrati, avere imparato qualcosa è un bisogno fortissimo di tutte le generazioni, ma è un bisogno incredibilmente forte delle giovani e giovanissime generazioni. La loro necessità di comprendere, di capire nel settore archeologico, di avere immediatamente l'idea di com'era nasce anche da decenni in cui la scuola ha abdicato per incorrere questa idea che dovesse preparare al lavoro, ha abdicato, e non possiamo più farci nulla, all'idea di lavorare tanto con le simbologie complesse. I musei offrono simbologie complesse, il lavoro degli artisti offre simbologie complesse e è compito di noi professionisti saperle fare amare, apprezzare e capire a chi non ha avuto la fortuna di fare gli studi classici, a chi non ha avuto la fortuna di avere i genitori che ti portano e ti raccontano fin dalla primissima infanzia. Il gap cognitivo avviene in quello, io dico sempre che i consumi culturali sono statisticamente appannaggio dei figli dei laureati o di una signora di 50 anni, quindi saper lavorare oltre a questi confini della statistica è il nostro compito fondamentale. Il Sistema Nazionale dei Musei con questi livelli di qualità così avanzati e così ben pubblicati in questo quaderno di cui ringrazio Laura Modo in modo particolare proprio per la manongevolezza, dà l'idea del lavoro che è stato fatto, un lavoro profondo ma di sintesi, comprensibile, gestibile dal nuovo direttore di museo, da quello di più lunga esperienza, in un processo di crescita che vi posso anticipare è stato individuato come determinante per lo sviluppo economico del Paese. Noi stiamo per pubblicare e abbiamo avuto in anteprima i lavori di due anni di studio di Boston Consulting sull'incrocio dei dati economici e di sviluppo dei musei statali, sono dati incredibili insomma, da soli i musei statali danno alla nazione circa 37 miliardi di indotto, l'1,6% del PIL, solo i musei statali si avvicinano al 2% del PIL dell'agricoltura. È stato calcolato che con un livello di qualità così alto come quello dei livelli appunto dei cosiddetti LUC, questi dati possono crescere fino a 47 miliardi, fino ad arrivare al 2% del PIL, cioè ad assimilare la produzione di reddito per la nazione dei soli musei statali a quello del settore agricolo. Adesso, al di là dei sogni economici, l'altro aspetto è che il 24 milioni dei 133 studi turisti dichiara di venire in Italia per visitare i musei statali, che è il primo motore della visita. Ora, mettere a sistema i 5.000 musei della nazione, rivalutare tutto il patrimonio interno, lontano dalle grandi città d'arte, è un moltiplicatore di questi dati incredibile, è un'occasione di sviluppo economico che questa nazione non può perdere, soprattutto viste le prospettive di questi due anni passati e di quello in cui siamo in questo momento. E quindi, a maggior ragione, noi cercheremo anche con le ridotte forze e con le continue difficoltà gestionali della mano pubblica, una burocrazia interna allucinante e una resistenza all'innovazione altrettanto allucinante, cercheremo di portare avanti questo grandissimo progetto per la nazione, appunto chiamato Sistema Nazionale dei Musei. Adesso, grazie ad Agid, appunto, stiamo per rilasciare una piattaforma informatica che consente di collegare tutti i musei e soprattutto le regioni che partecipano a questo progetto, inviando i loro dati, ne mancano poche. Siamo pronti, appunto, anche per mostrare il numero che va oltre quello dell'anagrafica dell'Istat, quindi supera i 5.000, e il grande lavoro sarà di farli crescere nel raggiungimento dei livelli di qualità. Ma la buona notizia è che fatti dei test informali sui livelli di qualità a diverse dimensioni, sia nei grandi musei statali, sia nei piccoli musei dei poli, sia in alcuni musei privati, in alcuni musei dei comuni, in alcuni musei delle regioni. Tutti i test che alcuni validi direttori hanno fatto, leggendo i livelli di qualità e assegnando, facendo, diciamo, un'autocertificazione del loro livello di raggiungimento, il livello in Italia non è così basso come si può pensare, ma anzi in certi casi è altissimo. E quindi anche questo ci dà fiducia di un futuro che può andare solo nella direzione che è stata detta, di stretta collaborazione fra i componenti della nazione. Quindi comuni, regioni, lo Stato, solo insieme riescono a muovere questa occasione storica per lo sviluppo culturale, come dice il nostro articolo 9 della Costituzione, tutti ricordano questo articolo 9, perché qualche archeologo ha scritto che riguarda la tutela, ma l'articolo 9 riguarda lo sviluppo della cultura. E l'articolo 9 riguarda lo sviluppo della cultura e pochissime istituzioni come i musei hanno saputo contribuire in questi anni allo sviluppo della cultura. Pensate che in tre anni, dopo la riforma, i musei statali sono cresciuti del 23%, quasi del 24%, è esattamente il doppio della misura della crescita dei turisti, quindi significa che metà della gente che affolla oggi i musei, che prima erano abbastanza deserti, sono italiani. Gli incassi sono cresciuti del 40%, nessun settore economico o sociale cresce del 40% in tre anni al mondo, non in Europa, non in altri paesi del mondo, e nel 2018, incredibilmente, si è avuto un altro 5% di crescita. Io dico sempre per scherzare agli amici, se avete 10 mila euro da investire, trovatemi chi vi dà il 5%. Quindi oggi un settore economico e sociale che cresce del 5% è un settore incoraggiante su cui vale la pena lavorare, investire, sacrificarsi e, appunto, per quanto riguarda la parte politico-amministrativa, investire risorse. Grazie per l'attenzione. Grazie al direttore.